Ci sono settori come quelli della ricerca che devono sviluppare la massima sinergia tra tutti gli attori in campo. Gli attori in campo sono ovviamente le istituzioni, a livello quindi politico, che deve creare la cornice legislativa in cui prevede investimenti diretti, ma anche e soprattutto il coinvolgimento del privato e del terzo settore nell'investimento stesso, in termini di risorse, ma in questo caso anche di pensiero e quindi anche di intelligenza. Io penso che un settore come questo, dove si costruisce la possibile risposta a problemi veri e drammatici a volte delle persone, quali sono appunto le patologie, debba chiamare tutti ad un ruolo pubblico, dove non esiste differenza tra pubblico e privato, ma dove esiste un interesse collettivo, il bene della comunità, che è un qualcosa che riguarda davvero tutti i soggetti in campo, tutti i cittadini, tutte le istituzioni, tutti gli esponenti del terzo settore e tutti i privati che operano in un campo come quello della ricerca in sanità, particolarmente importante per il nostro futuro. Ne va della qualità della vita di tutti noi, non dimentichiamolo mai.